e come la adesso poi mi diranno ma non è non è il Paolo Cagliari quel lì non l'è quel non il Galabarba non il Gai Cavei è un altro l'è Carusole Carisolo no perché vieni qua vieni così come siamo qua in allora Compostella Campo di Stelle Campo di Stelle allora mi è venuto come nesso a pensare a Carisolo che dopo Pinzolo si arriva a Carisolo c'è il ponte poi a destra si va su per Madonna di Campiglio e a sinistra si va a vedere gli orsi in Val di Genoa ma prima degli orsi c'era la bellissima cascata del Nardis chiedere al grande Cesare Maestri e Carisolo significa me lo diceva il grande padre Levri e il Don Leone Carisolo vuol dire Carusole perché è l'ultimo paese che prende il sole nella Val Rendena Carusole Carisolo semplice bello copilette grazie Paolo copilette grazie 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 grazie